l'anno scorso siamo arrivati da qui da questo versante ci siamo arresi siamo arrivati fin sotto quella rocce lassù e abbiamo proseguito qui sopra dove ci sono queste faggete a strapiombo poi ci siamo fermati siamo tutti tornati indietro ma quest'anno ho scoperto la strada non ci fermerà più nessuno grazie